ragazzi volevo parlarvi di super offerta che sta facendo image line per quanto riguarda fl studio per chi può in questo periodo fino al 6 gennaio c'è l'offerta di prendere fl studio quindi la versione all plugins a 400 euro quindi per chi può consiglio vivamente di prenderlo perché a volte riusciamo a comprarci un sacco di cose delle case delle schede audio che comunque computer potente riusciamo a comprare un sacco di cose ma non riusciamo mai a comprarci il programma che usiamo per fare dei beat e quindi questo secondo me il momento giusto per chi vuole per chi può perché anche alle possibilità adesso o per chi riceverà magari un po di soldi per natale come regalo magari di comprare fl studio perché praticamente fino al 6 gennaio c'è questa possibilità di prenderlo a più della metà del prezzo e quindi così in questo modo secondo me avete la possibilità di avere fl studio la versione originale e in questo modo qua la cosa bella è che non ti devi stare lì a cercare la versione cracato perché già lo sappiamo che la versione cracato da comunque dei problemi anche a tantissimo ho notato che la versione ho notato la differenza tra la versione cracato la versione comprata è che la versione cracato è molto è più lenta secondo me è un po più lenta rispetto a quello la versione comprato e la versione cracato di da tantissimi problemi e spesso quando si fanno gli aggiornamenti del windows e viene bloccato deve ricraccarlo di nuovo praticamente io vi sto parlando di un grande cracatore perché ho craccato fl studio per tantissimo tempo però dico per chi magari sta facendo anche musica da tantissimo tempo a chi piace veramente il programma fl studio consiglio che se già lo sta usando da tantissimo tempo se può di prendersi la versione originale perché dentro la versione originale la cosa bella è che lo compri solo una sola volta per tutta la tua vita quindi tutti gli aggiornamenti che vengono che verranno fatti su fl studio tu li avrai completamente gratis e quindi una cosa migliore di così non c'è per questo costa tanti costa molto più di tantissimi altri programmi perché tu lo compri a vita praticamente lo compri e tutte le altre persone che verranno dopo tu li avrai completamente gratis e quindi niente ragazzi per questo consiglio questo era giusto l'argomento che il consiglio che volevo darvi oggi è di prendervi fl studio se potete altrimenti potete prendere anche la versione la terza versione non questa versione qua la versione firmato anche quella versione è buona è buona per la versione più da la versione completa completa è questo è questo all plugins e quindi ragazzi che hai tutti praticamente non hai solo fl studio ma anche tutti i plugin gratis dentro diciamo compreso ragazzi niente questo era tutto penso che questo sia il momento per chi è un amatore di fl studio di cambiare di svoltare un po la pagina e svoltare la pagina facendo un salto di qualità per poter migliorare che sia solo il suo lavoro ma non solo il suo lavoro ma anche il coso perché mi ricordo che tantissime volte fl studio crackato mi dava comunque dei problemi perché a volte perdevo dei progetti e spesso mi capitevamo tantissime volte di perdere di che si bloccava all'improvviso e quindi secondo me con la versione originale ho notato che è più stabile è più stabile per poter lavorare per poter lavorare lo trovo più stabile quindi se volete la stabilità ragazzi bisogna comprarlo per chi può per chi può se vuole la stabilità bisogna comprare il consiglio vivamente a tutti di prenderlo chi ha la possibilità di prendersi e fare studio e guardate un po i prezzi che ci hanno ragazzi fino al 6 gennaio rimarrà questo prezzo e secondo me è un'opportunità per chi vuole e poi tra tanto chi no a un certo punto se tu hai fl studio magari la versione lo stai usando la cosa bella è che tu anche dopo puoi anche vendere la tua licenza a una persona che lo vuole comprare lo vende direttamente la tua licenza e questo e questo può scaricarlo e quindi lo puoi vendere anche a un prezzo un po più alto perché rispetto adesso il prezzo che stanno facendo veramente un prezzo magico ragazzi niente questo era tutto ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale e peace iscrivetevi al canale e 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 iscrivetevi